Sono Laura Di Pietrantonio e sono la presidente di Amici per la Gola. Il Carbonella Feste è un evento che abbiamo sognato un po' con il cuore qualche anno fa. Oggi realizzato e reso realtà grazie anche al contributo prezioso della Fondazione Carisap che ha reso possibile questo evento e anche di tutte le istituzioni e comuni che hanno collaborato con noi in questa avventura. Dato che questo bellissimo lago, il lago di Gerosa, è un lago di proprietà di ben quattro comuni differenti per cui già questo è indice di quanto questo lago si accuore dei Sibillini. Un evento che vuole rivalorizzare i sapori e le tradizioni della montagna nei suoi colori, nel suo appetito, nella sua bellezza. Carne alla brace con un bracere di 14 metri alle mie spalle e assolutamente birra, vino ma anche arte perché la nostra osteria del Boschetto è una vera osteria fatta con mobili del Piceno che abbiamo rivalorizzato grazie alla collaborazione con l'Associazione Giovane Europa e siamo fieri di aver realizzato questo evento e ringraziamo tutti quelli che ci hanno dato fiducia fin dal primo anno. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti